L'AirFit nel 2016 dichiarò che i primi tre criteri per scegliere gli investimenti nelle compagnie sono i fondamentali, cioè se l'impresa è di qualità, è buona, produce ricchezza, il management, se gli executive sono bravi, hanno esperienza, hanno un track record significativo, hanno un buon curriculum, la politica di sostenibilità. Se non c'è una chiara e rigorosa, credibile politica di sostenibilità, BlackRock non investe. E qui ci sono dati, questo serve in cui si fanno domande ai cittadini di diversi paesi in merito alla globalizzazione. Sull'asse verticale c'è la percentuale di abitanti che sono favorevoli alla globalizzazione, che si dichiarano favorevoli alla globalizzazione. Sull'asse orizzontale è il tasso di crescita del TIL per persona, quindi pro capite, al reddito reale, al reddito costante, quindi confrontale. Se uno guarda questo grafico, vede con chiarezza che l'atteggiamento nei confronti della globalizzazione è positivo in tutti quei paesi che hanno un basso immigrazione e un elevato tasso di crescita del TIL. Cioè, ragazzi, come ve la raccontano della racconta, i fenomeni sono questi, immigrazione e crescita economica. Le emergenze della società sono immigrazione e crescita economica. Tutto ciò che una società avanzata è in grado di fare per migliorare il problema dell'immigrazione e il problema della crescita economica è esattamente quello che fa, è la giusta direzione.